Oh Mario, a Nenghi, si è fatta il maicone? Quando ero 4 ore, tutto aspettavo il maicone, se facevo il maicone era un divertimento. Ma ora non fai mai il maicone, se sveglia il maicone, se sveglia il maicone. Più eravamo il maicone, si facevano mai il maicone? Certo, certo. E non lo facevano? Facevano il maicone e il maicone. Come lo portavano? Anche lo portavano da vita e lo portavano. Ma lo portavano a Ecco finisci? Ecco, stavo la domanda alla farmacia. Proprio alla farmacia di Croccia? Questa, ecco. Stavo la divisione? Eh, se facevano mai con una trentina, una quarta, una trentina, un'altra di mei uppone, si facevano mai. E facevano la ritornata più? Ah, certo. Si che era quella che... Facevano in giro. Eh? Facciamo pure accanto a noi. Accanto a noi che lo previ? Che lo previ? Che lo previ? No, no, no. Perché lo previ? Era un bello tipo. Quarta a mano e la quarta a mano. Sembra pure accanto a noi? Sempre accanto a noi. Accanto a noi. No, 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 pure accanto a noi. Pure accanto a noi. Mi facevano mai con. Vabbè, tu eri più pacifiche? No, si facevano mai con. E io, la semana va. Quindi lo portavano? Non mi facevano mai con ieri. Sì, la televisione ci stava. Allora... 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 Anche parecchie volte all'anno. Mica non qua. E allora... E questa gente... Se non arrivava dentro... Allora uscìva fuori... Sfocolata... Allora... A forza. I ragazzi. I ragazzi. I ragazzi. Che pure che li spusivano. Facevano mai spuso. Eh, eh, eh. Io mi ricordo... Vincenzo... Tu puoi aiuto. Stavamo sempre al Murayano... Vicenna... Vicenna a Crabagotto. Adesso... Sì... Adesso... Quei Lonzacchi... Quei famigenti... E hanno detto... Vincenzo... Quei i ragazzi... Quei i ragazzi... Ci hanno messo come i ragazzi di Romero... A coppio... Quei i ragazzi... Il ghiaccio... Con la neve... Che erano due... E ha detto... Quei i ragazzi... Quei i ragazzi... E ho... A coppio... Quei i ragazzi... Quei i ragazzi... Quei i ragazzi... Lonzacchi... Non lo so... Non lo so... Mi ha mai proprio quelli... Quei i ragazzi... Che le mangi... Quei i ragazzi... Quei i ragazzi... Quei i ragazzi... Le ragazzi... De 92 anni... Allora la portano... io a coppa non è mai buono, c'è stato più decimano da metri a coppa, quelle corte, casca, non so se io non volete e lo vedi niente mentre io e che tu non hai lo vedi niente mentre io non lo vedi niente mentre io dicete me l'altra cosa, ma la zippate non sei riuscita no, no, io ne la faccio non sei mai facile la zippate però io ma la zippate non faccio? quello muscatore quello muscatore e se faceva il muscatore e io ti dice che lo muscatore ma se io lo muscatore e quel muscatore facciamo una bella spasata io perché te l'è la se fanno quello suono per la bocca no, quello io quello suono per la bocca quello suono per la bocca con il mosto e io ne tengo parecchie botteghe allora io la faccio io e Mario e Pasqualino noi chiamo Pasqualino Pasqualino ma non si può che mi dico il muscatore eh 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 le tifiche io sempre ci sto caccurando ma la cassa da su quattro non si fatti male di più ma da prima da voi erano da giovinastro ma ora non le faccio non c'è cosa che ti ho domandato prima o l'altro ma che ti ho colato da ricerche i cannaruzzi ti ho capito la piccola la mac�哪x non la mannangere la macca me lo rendono inuffle Canada ma le i cannaruzzi la macca la macca li ho detto più li poteva a casa la macca ma la macca la macca uguale si mangiava pure cossedra Si mangiamo, si mangiamo Tu invece ne mangiò la carne russa No, io sono io oggi Ti mangiò la gelata Ecco, facciamo l'altro qua Grazie Ciao, grazie